Tappa conclusiva di Marzo Prevenzione Donna, iniziativa a favore della salute delle donne, al Comitato di Quartiere Rinascita in zona Sant'Anna. Molte le donne che hanno risposto all'iniziativa, che si è tenuta nei locali della Chiesa di Santa Maria del Principio. Anche qui al Comitato di Quartiere c'è stata una grande affluenza, una grande partecipazione, in virtù forse di una problematica fortemente sentita. L'interesse, la partecipazione e la voglia di realizzare questo intervento è stata dettata anche dall'alto tasso e dagli indici che purtroppo ci hanno determinato a dover intervenire necessariamente su questa problematica. Un'iniziativa che in questo contesto storico ha forse un valore più importante? Ha un valore importante perché tutti pensano che l'unico problema sia solo quello della pandemia, solo quella del Covid. In realtà ci sono tante altre patologie sulle quali bisogna sempre avere attenzione, monitorare, stare attenti perché ovviamente la prevenzione determina anche un grande risparmio per la sanità pubblica, oltre che ovviamente facilitare la possibilità di cura e quindi di raggiungimento di un risultato benevolo nei confronti della salute delle donne. Devo dire che è andata benissimo, sono state veramente 40-50 visite ogni volta, vuol dire che il territorio ha bisogno, che le persone adesso hanno di nuovo fiducia a venire e questa è una cosa fondamentale. Siamo contenti, mi fa piacere il nostro territorio abbia avuto questa opportunità e speriamo di poter fare sempre qualcosa attraverso l'aiuto e il sostegno per le donne. Ci saranno altri tipi di iniziative del genere? Sì, dato l'ottimo riscontro avremo altre iniziative, ci siamo prefissati già due date, una verrà sicuramente effettuata qui, giù Sant'Anna, col comitato di quartiere e un'altra via nazionale, così daremo la possibilità di coprire l'intero territorio turrese. Ringrazio chi ha dato il via a questa iniziativa e chi ha promosso questi incontri, quindi il dottor Renato Rimaldi che opera nel sociale sul territorio. Ringrazio nuovamente la dottoressa presidente della Villa Betania che ha fornito un'equip accurata ma soprattutto competente e professionale, Cordelia Vitiello. Inoltre le associazioni che hanno dato un grande contributo, Maria Pirozzi, assessore alle politiche sociali, che ha collaborato in sinergia con me e ringrazio vivamente il sindaco che ha dato l'ok a questa significativa iniziativa. Mettere i locali a disposizione significa stare a servizio del popolo e sono contento di questo e come parroco sono sempre pronto a dare i locali della comunità per qualsiasi iniziativa e mi auguro che possa aprire il cuore di tutti per la speranza di un mondo nuovo. Come ha risposto il quartiere a questa iniziativa? Il quartiere ha risposto benissimo, boom di prenotazioni, abbiamo cercato di fare il possibile tenendo presente anche il momento sanitario particolare, ci auguriamo in futuro di poter ospitare altre simili. Per il resto un ringraziamento va ovviamente alla Regione Campania, al Comune Unitore del Greco, a tutte le associazioni di settore e che ha permesso che si potesse fermare qui questa manifestazione nel nostro quartiere. Signora, lei ha fatto gli esami, com'è andata? Benissimo, devo dire che sono rimasta contentissima, grande competenza e dolcezza innanzitutto. Spero che questa iniziativa si ripeterà in futuro.